ecco il signore entra in macchina dopo ore e ore in cui la gente cussa ed è questo ogni mattina a Capo Positico ogni mattina la residenza e l'ingresso della scuola guardate i signori del Despar invece di dire ai clienti del Despar che devono parcheggiare le loro auto un pochino meglio si permette anche di sbattersi il signore del Despar con chi invece sta lavorando con estrema difficoltà ecco qua guardate 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 questo è invece di dire ai loro clienti di parcheggiare le auto guardate guardate vergognatevi vergognatevi sta portando un autobus vergognatevi vergognatevi sta portando l'autobus il problema siete voi che dovete dire ai clienti delle macchine dovete dire ai clienti delle macchine e questo vergognatevi vergognatevi siete voi che dovete dire ai clienti di parcheggiare meglio noi sentiamo questo ogni mattina e ogni mattina questo ogni mattina ok questo va direttamente alla procura non vi preoccupate che vuoi sbattire a fa che vergogna